La partita potrà essere buona per entrambi i tecnici per valutare i progressi delle proprie formazioni. La partita ha avuto inizio in questo momento con il primo pallone a disposizione della Nick Bari. Avanti a sé è cercato Zaccaria, fermato anche lui. Prova di partire a Juve, adesso ha un po' di spazio d'attaccante, Juventino, Can, se ne va Can tutto solo, entra in regola Can probabilmente dal centro, attenzione la palla verso Gertù che a porta vuota deposita in rete quindi quando siamo giunti al quarto minuto del primo tempo la Juve sblocca il risultato con Gertù parte il calcio d'angolo sul primo palo e questa volta Can svetta di testa nel nulla e sigla il gol del 2 a 0 al 35esimo dopo tanti tentativi quindi Can è riuscito a siglare il gol personale al Cappetta in profondità, questa volta in posizione regolare Cappetta entra in area da parte destra Cappetta prova il tiro, Santa Maria tocca e sul secondo palo arriva No Colussi per il tap in che vale il 3 a 0 quando siamo al 39esimo quindi No Colussi e Santoro serve in avanti il suo compagno Galasso che prova a lanciare No Colussi, interviene difesa da Nick Bari, recupera però D'Agostino che allarga a destra con solito Cappetta, prova la botta e c'è il gol, ancora il gol della Juventus con Cappetta al 44esimo quindi Cappetta porta a 4 le reti della Juventus al 44esimo quindi, calcio di punizione che sarà battuto dallo stesso Ansani, è entrato, riponiamo adesso la raspata nel Bari, si attende il fischio del direttore di gara per il calcio di punizione, Ansani di destro, posizione della barriera della Juve che si compone di quattro uomini, parte Ansani a scavalcare la barriera deviata e c'è il gol, il gol della bandiera della Nick Bari proprio al cinquantesimo con Ansani che ha trovato sul calcio di punizione il gol del 4 a 1 quando l'arbitro e in questo momento arriva il triplice fischio fra Juventus e Bari, finisce 4 a 1. Grazie a tutti